Angeli, 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 angeli e cari amici, vedete il volto di Chiara Rizzo, Chiara Rizzo che guarda verso il cielo, guarda verso il cielo, angeli, angeli e anche Massimo Cacciari si interessa di angeli sin da quando è apparso uno dei suoi testi fondamentali intitolato l'angelo necessario, l'angelo necessario, vedete cari anche questo è un angelo, anche questo è un angelo e guarda verso il cielo, guarda verso il cielo, forse questo angelo Chiara Rizzo, la bella Chiara Rizzo che forse la metteranno in prigione, poverina, la metteranno in prigione, forse sta guardando la discesa di questa opera, vedete cari amici questa opera, la vedete questa opera, forse attende che scende dal cielo questa opera, vedete questa opera che presto sarà tradotta in lingua inglese, on the world, on the world, angeli, angeli cari amici, Chiara Rizzo, Chiara Rizzo, Mattacena, Mattacena, guardate che angelo, Lady Champagne, Lady Champagne, ed ora la vogliono chiudere in carcere, la vogliono chiudere, la vogliono chiudere in carcere, vedete come guarda verso il cielo cari, e a Montegardo la chiamavano Lady Champagne, Lady Champagne, vedete chi guarda verso il cielo? Questa non è una finzione, questa realtà, angeli, angeli, Massimo Cacciari, forse aspetta la discesa, aspetta la discesa di questa opera, perché questa opera adesso va on the world, dal matercato al patriarcato, il trionfo della clitoride cari amici, il trionfo della clitoride, ecco, angeli, angeli, e poi c'è l'opera di Massimo Cacciari intitolata l'angelo necessario cari amici, l'angelo necessario, Chiara Rizzo, Chiara Rizzo, la vogliono mettere in prigione, capito, la vogliono mettere in prigione, va bene, dai, tanti saluti Roserafino Massoni.